Un caro saluto a tutti gli amici di Procultura Monzese, il film che vi suggeriamo questa settimana è La legge del mercato di Stéphane Brisé, disponibile gratuitamente sulla piattaforma raiplay.it. Thierry ha 51 anni e non ha più un lavoro, stanco di lottare contro la sua fabbrica che ha delocalizzato, si impegna in corsi di formazione e colloqui di lavoro online, tra umiliazioni e false speranze, finché un giorno viene assunto in un ipermercato con il ruolo di controllo nei confronti di tentativi di furto, non solo dei clienti ma dei suoi stessi colleghi. Film duro e asciutto, girato con grande rigore, la legge del mercato è la storia semplice di un uomo costretto a misurarsi con le regole economiche di un mondo che giorno dopo giorno si mostra sempre più crudele verso la morale dell'empatia e della solidarietà. Un esempio di cinema civile che interroga ciascuno di noi su quanto siamo disponibili a piegare la nostra vita per obbedire ai dettami del dio mercato, oppure a lottare per ricavare anche nella sfortuna un brandello di agognata libertà. Buona visione.